E' stata una giornata di attesa a Brindisi, scrutando il mare, aspettando la partenza della nave San Giorgio, ferma a 50 miglia a largo. Le operazioni di salvataggio dei superstiti vengono ufficialmente chiuse intorno alle 15, quando anche il comandante per ultimo abbandona il traghetto Atlantic. Ma la nave San Giorgio a tarda sera non si era ancora mossa, come conferma il prefetto di Brindisi, Nicola Prete, alla fine della riunione dell'unità di crisi. La San Giorgio è rimasta in zona operazioni, sta lì con tutto l'apparato aeronavale già dislocato, in attesa di avere conferma sui luoghi di destinazione delle varie unità. Quindi possono essere Brindisi, può essere Ancona, può essere Bari, stanno decidendo dove è meglio, nell'interesse dei Nafoghi, essere portati. E in più anche un'eventuale possibilità di ricercare degli possibili dispersi, perché naturalmente nulla va lasciato di intentato, quindi se non c'è l'assoluta certezza che tutti sono a bordo, si continua a cercare. La nave, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare proprio a Brindisi, ma non prima dell'alba, mentre il traghetto, col suo carico di fumo, sarà trasportato in un porto dell'Alto Adriatico. A Brindisi intanto, e questa è una certezza, continuano ad arrivare le vittime. Dopo l'uomo di nazionalità greca, che all'obitorio del Perrino non è stato riconosciuto da colui che si pensava fosse il figlio, una donna di circa 50 anni di nazionalità turca è stata portata nell'obitorio del cimitero di Brindisi. Non c'è nessuno a riconoscerla. Al momento non sappiamo chi chiamare, spiegano pietosi gli uomini della scorta della Guardia Costiera, ma l'identificazione, secondo fonti della procura, sarebbe stata effettuata in tarda serata, grazie ai documenti con foto che le vittime avevano con sé. Al momento però i nomi non vengono diffusi e così i parenti in pena cercano notizie anche qui. Lei ha la ricerca di un altro? Mio padre, che si trova, non so, neanche se è a bordo ancora o se l'hanno già portato in qualche nave di salvataggio. Era sicuramente a bordo della norma? Sì, sicuramente, perché c'era anche mia madre con lui, lei è già in salvo qui con me, ma non trovo mio padre adesso. E sua madre l'ha persa di vista? Sì, dal momento che l'hanno portato via con l'elicoptero non sa dove si trova più. Però sa di certo che è stato salvato? Sa che era a bordo con lei, ma non so se l'hanno portato in un'altra nave o se è ancora lì, non sappiamo dove si trova adesso.